Stefania Pezzopanni si va delineando il quadro che tutti si aspettavano, un ballottaggio da Mattaeste e Cialente, è quello che vi aspettavate anche voi? Sì, sapevamo che vincere al primo turno era difficile per la semplice circostanza che gli altri candidati, ben sette, hanno fatto il tiro al piccione contro Massimo Cialente. Dicevano tutte le stesse cose contro Massimo, questo ha deteriorato il livello e la qualità della campagna elettorale ma quello che non siamo riusciti a fare al primo turno lo faremo al secondo, anche perché incoraggiati dal fatto che Massimo è molto più avanti di De Mattaeste e che anche la somma dei voti di De Mattaeste e Propersi non raggiungeranno mai il livello di Massimo Cialente.